Buongiorno a tutti voi e bentrovati a questa nuova edizione del Tg di Teletruria. Subito la cronaca. Alcune bombe inesplose risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono state ritrovate a Sansepolcro sotto il ponte di San Francesco. Vediamo. Alcune bombe della Seconda Guerra Mondiale inesplose sono state segnalate lungo il torrente Afra nei pressi del ponte di San Francesco. Le bombe sono ben visibili anche dal ponte complice l'acqua chiara che permette la visione. Sono numerosi i passanti che si fermano per guardarle. Le bombe risalenti sicuramente alla Seconda Guerra Mondiale possono essere state trascinate dalla corrente negli ultimi mesi o anni o decenni in quel punto. Adesso saranno gli artificieri che giungeranno a Sansepolcro domani mattina, gli artificieri della caserma del Genio di Piacenza insieme ai poliziotti del commissariato di Sansepolcro, ai vigili urbani che tornati sul posto decideranno se trasportare in un luogo più sicuro le bombe oppure se farle brillare in un campo lì vicino. Il ponte di San Francesco si trova a solo un chilometro circa dal centro urbano di Sansepolcro lungo la strada che conduce all'eremo di Monte Casale e soprattutto in quel punto alla frazione della montagna. Le otto tavole del politico degli agostiniani di Piero della Francesca si ritrovano a Milano al Museo Pol di Pezzoli in mostra il capolavoro riunito. Inaugurata a Milano la mostra Piero della Francesca, un capolavoro riunito, l'esposizione resterà aperta fino al prossimo 24 giugno presso il Museo Pol di Pezzoli. Si tratta di un'occasione unica visto che dopo 555 anni viene riproposta. L'opera venne smembrata dopo un secolo dalla sua realizzazione. Le otto tavole del politico provengono da varie collezioni, New York, National Gallery, il Museo di Arte Antica di Lisbona, la National Gallery of Art di Washington. L'opera era stata dipinta per l'altare maggiore della chiesa degli agostiniani. La pala venne divisa alla fine del XVI secolo. Alla cerimonia milanese erano presenti il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, l'assessore alla cultura Francesca Mercati e la presidente della fondazione Piero Francesca Chieli. Vogliamo in questa gestibilità ringraziare infinitamente il museo e le persone per aver fatto una cosa unica al mondo, cioè la riflessione del nostro politico degli agostiniani. Credo che sia un'occasione unica anche per i nostri concittadini. Mi arrivi le spalle per esempio il politico, vedete una parte del politico e vedete Sant'Agostino di Lisbona. La cronaca con i nuovi controlli della polizia. Questa mattina ai giardini Porcinai siamo di fronte alla stazione ferroviaria di Arezzo, una zona in cui si sta concentrando l'attenzione delle forze dell'ordine anche a seguito delle richieste che ricorderete dei cittadini residenti e dei commercianti della zona che hanno anche incontrato il prefetto. I controlli di stamani con i rinforzi giunti da Firenze e il reparto prevenzione crimine Toscana hanno portato al fermo di due persone, una delle quali è stata poi arrestata per spaccio. Si tratta di un italiano. Cresce l'attesa per i pendolari del Val d'Arno per l'incontro tra Regione e i vertici nazionali di RFI e Tronitalia in programma il prossimo 26 marzo a Firenze. Si è svolta nelle scorse ore in Consiglio regionale l'audizione congiunta del Comitato Pendolari Val d'Arno Direttissima e del Movimento Consumatori Toscana. Al centro dell'appuntamento con la Quarta Commissione non solo i disagi dei pendolari della linea retina ma anche l'attesa e gli auspici per l'incontro annunciato tra Regione e i vertici nazionali di RFI e Tronitalia previsto per il prossimo 26 marzo a Firenze. Sarà un'occasione importante, sottolineano Maurizio Dare e Armando Mansueto, soprattutto per riaffermare la regola nazionale che prevede per le linee ferroviarie sature, come la Direttissima, la precedenza dei treni regionali sui treni alta velocità nelle fasce orarie pendolari. Se la regola della precedenza fosse veramente applicata, conclude la nota del Comitato, sarebbe una svolta per i pendolari del Val d'Arno. Villa Severi è libera, le oltre 2000 firme hanno fermato l'assessore Scapecchi, lo dicono i consiglieri comunali PD Giovanni Donati e Alessandro Caneschi che chiedono al sindaco Ghinelli di sostituire il rappresentante di Forza Italia. Vediamo. I consiglieri comunali PD Donati e Caneschi plaudono alla soluzione trovata su Villa Severi, ma non rinunciano a puntualizzare la loro posizione di partenza, il no all'ipotesi di un bando per affidare l'area a privati. Siamo contenti perché il risultato è stato raggiunto, o meglio, l'azione di 2000 cittadini, del Comitato, del Centro di Aggregazioni, delle altre associazioni che sono presenti a Villa Severi e anche di un gruppo di Ultras di Arezzo, che tutte le partite non ha fatto altro che ribadire la necessità di lasciare quell'area, quell'impianto sportivo libero accesso, ha fornito un risultato positivo. Quindi prendiamo atto che per l'ennesima volta l'amministrazione e in particolare l'assessore Scapecchi ha dovuto cambiare idea. Non è la prima volta, dicono, che la giunta comunale è costretta a tornare indietro a seguito della nascita del confronto con i comitati. E poi l'affondo sull'assessore Scapecchi sarebbe auspicabile, si legge in una nota, che il sindaco Ghinelli cominciasse a pensare ad un sostituto capace di ascoltare la gente. L'assessore Scapecchi non era di questa idea, ma siamo contenti che sia stato raggiunto questo risultato. Il ringraziamento come va alle 2000 persone che hanno firmato la petizione, a tutte le associazioni e il centro di aggregazione che lavorano quotidianamente in questo parco cittadino. L'unione fa la forza, però bisognerebbe che l'amministrazione, in particolare l'assessore Scapecchi, ascoltasse più la gente invece di fare sempre di testa sua, come ha fatto per altri impianti sportivi. Sarà Paolo Brandi, il candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni comunali a Castiglion-Fiorentino. L'ex sindaco ha ufficializzato questa sua candidatura in una insolita conferenza stampa. Un mazzo di fiori per i caduti castiglionesi poi si è presentato davanti alle telecamere ufficializzando quello che ormai si era capito da un bel pezzo. Ho voluto omaggiare i caduti con un mazzo di fiori, peraltro un mazzo di fiori con i colori della pace. Proprio un augurio perché davvero nel mondo tante cose possano cambiare e un riconoscimento a coloro che hanno dato la vita per il nostro paese, per la nostra nazione. Credo che sia davvero importante quando uno si candida a guidare un comune, ricordarsi anche della storia del proprio comune, ricordarsi delle proprie radici. Senta Brandi, lei torna in campo, non dico riscende in campo, però non ha certo bisogno di ripresentazioni? In tanti mi hanno detto chi te lo fa fare. Io rispondo sempre che non c'è un motivo per cui qualcuno deve entrare in campo, c'è un motivo utilitaristico. Ci sono tante cose, c'è l'amore per il proprio paese, la voglia di fare, ci sono dei numeri che mi hanno in qualche modo spinto a ricandidarmi e ne voglio citare soltanto due. Uno che negli ultimi cinque anni a Castiglione Fiorentino si sono perse qualcosa come 83 imprese, tra imprese commerciali, imprese artigianali, imprese di altro tipo. E l'altro che in pochi anni Castiglione Fiorentino è calato di ben mille residenti. Brandi, l'ultima domanda, sarà una sfida a due con il candidato del centro-destra? Non si scappa? Sì, penso proprio che sarà un po' come Highlander, ne resterà uno solo. Detto questo, io credo che la cosa bellissima in questa campagna elettorale potrebbe essere un incontro pubblico, magari in Piazza del Comune, che è un po' l'agorà del nostro paese, tra i due candidati. Un incontro sull'economia, sullo sviluppo, sulla crescita, sulle scuole, sulla sanità. Un bel incontro perché in questi anni purtroppo l'amministrazione comunale ha sempre evitato come la peste i confronti pubblici. Invece sarebbe bellissimo potersi confrontare magari con un Bruno Vespa locale che fa da arbitro e parlare di fronte a tanti cittadini. Sarebbe davvero una bella sfida. Bella iniziativa per gli ospiti dell'RSA di Terra Nuova Bracciolini. Si chiama Caffè Sospeso e vede la partecipazione fattiva degli esercizi commerciali del paese. Una bella iniziativa appena partita a Terra Nuova Bracciolini. Un caffè sospeso per gli ospiti della RSA. Caffè Sospeso è un dono della comunità verso le nonne e i nonni della nostra RSA Dona Melio Vannelli. Un modo per far uscire i nonni ma anche per far entrare la comunità all'interno della casa di riposo. Potranno in questo modo trovare nei bar del nostro comune un caffè, un modo per fare merenda insieme, per uscire un'occasione per loro, ovviamente accompagnati dal personale della struttura o dai volontari. È un momento per vivere, è un momento di convivialità appunto all'esterno della struttura. Ringrazio tutti i bar del capoluogo e anche quelli vicini che hanno subito aderito con convinzione a questa iniziativa che è già di fatto iniziata. Infatti in questi giorni i nonni sono usciti e hanno potuto appunto godere dei caffè che i cittadini hanno lasciato pagati e poter appunto prendere insieme un caffè all'esterno della struttura. Chi volesse aderire all'iniziativa potrà farlo presso le attività commerciali che accolgono un caffè sospeso e che sono identificabili da un apposito cartello adiacente al bancone. Con il caffè sospeso termina questa edizione del Tg Giorno di Teletruria. Guardiamo come sempre insieme la programmazione per questa sera dopo il Tg delle 20 e 30. Newsline dentro la notizia in cui viene presentata l'edizione 2024 dell'Ardita e poi 9.10, informazione ed attualità. La serata proseguirà con Intim, ospite del salotto di Paola Pompei, Lidia Castellucci, presidente di Coldiretti Arezzo. Di seguito la volta di una nuova puntata di Generazione 3 Lifestyle condotto da Riccardo Ciccarelli e poi sportivamente settimana alla cura di Andrea Laurentini. Riccardo Buffetti è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie per la visione!